Leonardo Silva Revisoree Le compagnie assicurative di fronte alle grandi calamità rischiano di fare bancarotta e allora a loro volta si assicurano. Le imprese che intervengono in questi casi, le riassicurazioni, tengono traccia di tutti questi eventi e ci forniscono dei dati per noi importanti. Ci dicono che nell'arco di tempo della mia vita gli eventi catastrofici di origine meteoclimatica sono più che triplicati. Ora, non sono giovanissima, però è comunque un grande cambiamento. E ha radici diverse, in parte dovuta alla crescita demografica, in parte alla crescita economica, che fanno sì che ci siano più persone e più beni esposti che possono subire dei danni. E poi c'è la crisi climatica in atto, che sta aumentando la frequenza degli eventi pericolosi. Ora, se da una parte è abbastanza scontato che l'aumento delle temperature favorisca eventi come ondate di calore, dall'altra parte può risultare un po' strano il fatto che aumentino anche eventi tra loro antitetici, come i nubi fragili, con le conseguenti alluvioni, e prolungati periodi di siccità, con le conseguenze su raccolti, carestie, migrazioni. Allora, per fare luce su questo, partiamo dal fatto che la Terra ha una coperta, è una coperta che ci protegge, ci isola dal freddo cosmico. È una coperta che è fatta di molecole, i cosiddetti gas serra, che stanno nell'atmosfera. E l'uomo, con molte delle sue attività, in realtà continua ad aumentare il numero di queste molecole, a metterne altre, quindi la coperta diventa sempre più spessa. E allora, chiaramente, alla superficie, sotto la coperta, fa più caldo. È il cosiddetto riscaldamento globale, lo conosciamo tutti, ma chiamandolo in questo modo, non cogliamo altri fattori, altre differenze, che sono in realtà molto importanti. L'aumento della temperatura fa sì che il 70% della superficie della Terra, quella ricoperta dagli oceani, si stia scaldando e quindi evapori maggiormente. E questo vuol dire continuare ad aggiungere acqua nell'atmosfera. E non stiamo parlando di una variazione piccola. Diciamo che per ogni pentola d'acqua presente nell'atmosfera, negli ultimi anni noi ne abbiamo messi un altro bel bicchierone. Quindi parliamo di riscaldamento globale, ma dovremmo anche parlare di anacquamento dell'aria. E allora penso che nessuno si stupisca se dico che aumenta l'intensità degli acquazzoni, dei nubi fragili, perché tutte le volte che piove viene giù più acqua. Per parlare dell'asticità invece dobbiamo fare un passo ulteriore e capire il fatto che per avere la pioggia non basta avere acqua nell'aria, ci va anche che quell'acqua sia sotto forma liquida, come gocce, non sotto forma di vapore, che resta sospeso e non lo vediamo come in questa stanza adesso. Allora, l'aumento della temperatura fa sì che l'atmosfera possa tenere più vapore e quindi che l'aria faccia più fatica a diventare pregna e arrivare a condensare, a formare le gocce e poi la pioggia. E questo è vero soprattutto dove viviamo noi, sulla terraferma, perché i continenti si stanno scaldando più rapidamente del resto del globo. Quindi riscaldamento globale, anacquamento dell'aria e inaridimento. Questo ci fa capire che il sistema climatico è molto complesso, molto intricato, e allora forse ci viene da dire ma come facciamo a non soccombere agli eventi estremi? La soluzione più ovvia è chiaramente togliere qualche strato alla coperta che abbiamo messo. E questo vuol dire ridurre le emissioni di gas serra, vuol dire addirittura arrivare a emissioni negative, cioè eliminare parte di quello che già c'è. E chiaramente è una soluzione che deve arrivare da innovazione tecnologica, attraverso modi che già intuiamo adesso, già intravediamo, ma anche altri che assolutamente non riusciamo ad immaginare. Ma io ho fiducia, perché l'inventiva dell'uomo è notevole, ci credo. Anche quella della donna, tra l'altro, però. In realtà, se pensiamo alle crisi che abbiamo affrontato, la storia ci racconta che ci sono stati queste soluzioni. Pensiamo per esempio alla crisi del legname del XVII-XVIII secolo. In quel periodo il legno veniva usato sia come materiale di costruzione, ma era anche la principale fonte di riscaldamento. La popolazione cresceva e allora aumentava anche il numero di alberi tagliati. Nel giro di pochi decenni si passò ad avere un prezzo decuplicato per il legno e poi anche tanti altri effetti collaterali del disboscamento eccessivo si fecero vedere come l'impoverimento dei suoli, ma anche l'aumento di frane, smottamenti, laddove mancavano le radici per tenere compatti i versanti. È quasi un'immagine archetipica, la terra che si sgretola, che si disfa per effetto dell'azione dell'uomo. E poi cosa successe? La rivoluzione industriale, l'invenzione della macchina a vapore che permise di estrarre carbone dove prima era difficile farlo. E quindi nel giro di un breve periodo la richiesta di legno diminuì. Problema risolto. Poi ovviamente ne arrivarono altri, ma quel problema è risolto. Ora non sto dicendo che dobbiamo stare fermi, non fare nulla e aspettare che arrivi un mitologico inventore geniale a portarci la soluzione. Perché chiaramente la storia ci dice anche che ci sono crisi che non sono state risolte. E per rimanere nel tema del legno pensiamo alla crisi della civiltà dell'isola di Pasqua. La leggenda narra in quel caso che gli abitanti arrivarono a tagliare l'ultimo albero d'alto fusto senza rendersi conto che non avrebbero più avuto il materiale per costruire le imbarcazioni di cui avevano fondamentale bisogno per procacciarsi ciò che era di assoluta necessità per loro. Quindi, problema che non è stato risolto in quel caso. Magari non è esattamente andata così, c'è qualche storico che dice che si è andata in un modo diverso, ma non importa. A noi questa storie la serve semplicemente per ricordarci che le azioni hanno delle conseguenze. E quindi magari ricordiamocene anche quando scegliamo i nostri governanti, i nostri amministratori, perché le scelte che loro fanno sono poi le vie sulle quali camminiamo noi, cammineranno i nostri figli, i nostri nipoti. Perché è necessario creare le condizioni affinché ci sia questo sviluppo tecnologico, è necessario favorire lo sviluppo delle idee attraverso l'educazione, attraverso la ricerca, l'innovazione. Quindi sviluppo tecnologico da una parte, ma non basta però. Non basta perché la crisi climatica è solo uno dei problemi che abbiamo. Se pensiamo a inquinamento, perdita di biodiversità, non sostenibilità del nostro stile di vita, queste sono altre sfaccettature, altre espressioni di uno stesso problema che ha radici molto profonde e che è legato al nostro modo di relazionarci col mondo. Se risolvessimo il problema del cambiamento climatico, cioè il problema dei gas serra, senza affrontare queste altre questioni, staremmo perdendo un'occasione immensa di fare davvero una rivoluzione, di cambiare le cose per il meglio. Parlavo di radici profonde perché tutto parte in realtà da quando l'uomo ha cominciato a controllare la natura, ha imparato a accendere il fuoco e quindi a poter cuocere gli alimenti, fondere i metalli senza aver bisogno di aspettare i fulmini, ha imparato a controllare l'acqua per irrigare i campi senza aspettare la pioggia, ha imparato a conservare i cibi per permettergli di sopravvivere durante l'inverno sterile, freddo, senza aver bisogno di migrare. In breve ha imparato a controllare e a slegarsi dai ritmi della natura. E adesso noi apriamo il rubinetto, pigiamo l'interruttore della luce, regoliamo il termostato e viviamo in condizioni estremamente stabili. Tutto questo ha portato un incredibile miglioramento del nostro stile di vita, ci ha permesso di nutrire popolazioni immense. È una storia di grande successo, è la nostra storia della nostra civiltà. Però attenzione, perché ci ha anche slegati dal tempo, ci ha slegati dalle condizioni meteorologiche che scandiscono lo scorrere di passato, presente, futuro, ci ha slegati da questi tempi della natura e ci ha fatto anche illudere del fatto che le risorse siano illimitate. Oggi davvero talvolta pensiamo che l'unico limite alle cose che possiamo avere sia il denaro che possediamo per comprarle. Infatti l'umanità è arrivata a consumare in un anno quello che il pianeta ci può dare in più di un anno e mezzo. Siamo arrivati a pensare di aver domato il mondo, di averlo piegato al nostro volere. E adesso ci raccontiamo che la soluzione ai problemi che abbiamo sia un ulteriore addomesticamento, un maggiore controllo per allontanare da noi quella paura del clima che cambia. Ma in realtà quello di cui abbiamo bisogno è di avere più rispetto per il pianeta. E allora pensiamo a quanto ci viene facile, naturale, provare rispetto per ciò che amiamo e che amiamo ciò che conosciamo. E lo sconosciuto, l'ignoto, invece ci fa paura. Allora mai come adesso conosciamo il pianeta perché lo osserviamo, lo monitoriamo, lo misuriamo con mille sensori. Sappiamo, possiamo conoscere esattamente qual è l'umidità del suolo e decidere con precisione quanto irrigare quella piantina, quanti nutrimenti dare. Ma lo facciamo tutto con sensori che non sono in grado di attivare le nostre emozioni. Allora la strada che io propongo è proprio quella del sentimento, anche, anzi, soprattutto nel suo senso etimologico, di percepire attraverso i sensi. Sentire l'odore di un bosco al mattino presto, correre sotto la pioggia, scottarci le dita mentre accendiamo un fuoco, avere la pelle d'oca per un vento gelido, osservare le api volare sulle fioriture primaverili di questi giorni. Siamo a novembre. Tutto questo provocherà sentimento vero, meraviglia, conoscenza. Il rispetto sarà una conseguenza naturale di questo diverso modo di relazionarci. E non ci saremmo arrivati scappando dal terrore delle catastrofi. Sappiamo che non funzionano le scritte sui pacchetti di sigarette e fumare fa male. Ci saremmo arrivati mossi da un'attrazione verso una relazione armoniosa ed armonica. Pura meraviglia. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.